Un bambino di 13 mesi è stato ricoverato in codice rosso nel pomeriggio di ieri all'ospedale pediatrico Santo Bonno di Napoli, probabilmente dopo aver ingerito liquido insetticida. Il piccolo, figlio di una coppia romana in vacanza in costa d'Amalfi, è stato portato immediatamente al pronto soccorso del presidio ospedaliero locale, quando i genitori si sono accorti che aveva staccato il diffusore elettrico di liquido antizzanzare dalla presa e, verosimilmente, ne aveva bevuto il contenuto. Un'ambulanza del 118, scortata dai garabinieri per bevassare il traffico dovuto alla regata storica delle Repubbliche Marinare, ha trasportato il piccolo al pronto soccorso dell'ospedale costa d'Amalfi di Ravello. Lì, il bimbo, arrivato in condizioni di salute serie, è stato assistito dal rianimatore, che ha provveduto ad intubarlo e stabilizzarlo. Successivamente, il piccolo paziente, sempre assistito dal rianimatore, è stato trasportato in ambulanza al porto di Maiori per il trasferimento in elli soccorso all'ospedale Santo Bono di Napoli.